Ah, che bello il popolo e il tifo napoletano, no? Quello che fischia e insigne, insulta e insigne, fischia il Napoli a 5 minuti alla fine e dopo perché ha vinto tutti a cantare, a ballare, sì, poi mi dicono, eh, ma noi napoletani siamo diversi da tutti gli altri, incitiamo sempre nel bene e nel male, al di là del risultato, sì, l'hanno anche scritto in curva, non mi ricordo che curva, comunque. Comunque, vabbè, comunque, il Napoli ha vinto 2-1 e sinceramente me l'aspettavo, non me l'aspettavo in questa maniera qui, che vincesse, anche perché comunque il Chievo, io sono dell'idea che queste squadre qua, veramente, quando dico che bisogna portare il campionato a 18 squadre è anche per non vedere questi obrobri, cioè, una squadra che trova il gol inaspettato al 31esimo, quando è stato, non puoi poi fare un quarto d'ora, 20 minuti, con questi qui che ti pressano sempre e spazzarla via. Poi, c'è un'altra cosa da dire, il signore inglese, cioè, potevate dargli la maglia del Napoli oggi, perché oggi giocava per loro, io, boh, io sono dell'idea che quando uno è già, io farei già, farei una cosa, gli accordi si fanno in estate e non a gennaio, però, vabbè, a parte questo, a parte i parametri zero, ovviamente, però, un giocatore che gioca, o che giocherà in quella squadra avversaria, io non lo metterei mai in campo con la mia squadra, perché? Perché emotivamente non darà mai il 100%, a mio avviso, infatti, oggi inglese ha fatto cagare, ha fatto cagare, infatti, l'unico gol che, sì, il gol che ha fatto il Chievo non è suo, stranamente, di solito sono tutti i suoi, infatti, oggi non ho anche messo inglese al fantacaccio, non perché giocava contro il Napoli, ad esempio, se fosse stato qualcun altro dei miei, non so, Belotti, per il Torino, probabilmente l'avrei messo, ma, contro, contro il Napoli, intendo, ma semplicemente proprio per questo, perché sapevo che inglese non avrebbe mai dato il 100% contro il Napoli, e oggi è stato così, alla fine, secondo me. Il rigore del Napoli non l'ho visto, perché è stato quello spezzone della partita che non ho visto, appunto, detto questo, detto questo, in questo momento, Napoli e Juventus stanno giocando ad armi pari, tra virgolette, nel senso che, praticamente, la Juventus è su tutti, tra i fronti, e che, quelli che mi dicono che abbiamo due rose, è vero che abbiamo due rose, però, da quando abbiamo integrato di nuovo Quadrado, perché ricordiamoci che, da dicembre, da gennaio, a, fino alla scorsa settimana, abbiamo messo sempre gli stessi lì davanti, eh, quindi, Iguain, Dibara, Mandzukic, poi si è fatto male anche Mandzukic, e, insomma, Costa, cioè, sono sempre stati gli stessi, quindi, adesso che molti napoletani hanno goduto per la sconfitta contro il Real Madrid, e probabilmente godranno anche per l'eliminazione di mercoledì contro il Real Madrid, appunto, non sanno che, tra l'altro, il Napoli, oggi l'ho visto sulle gambe, e avessero affrontato una squadra un po' più qualitativa, un po' più con i controcoglioni, oggi non l'avrebbero portata a casa la partita, l'hanno dimostrato contro il Sassuolo, che è leggermente migliore del Chievo Verona, leggermente, eh, non sto dicendo 3-4 spanne sopra, leggermente, e hanno pareggiato la partita. Oggi, ripeto, avessero affrontato una squadra un po' più qualitativa del Chievo Verona, per me non l'avrebbero mai ribaltata, mai, perché il Napoli è sulle gambe, diciamo, psicologicamente anche un po' non regge la pressione di dover vincere sempre, la prossima settimana giocheranno Milano contro il Milan, ad esempio, noi giocheremo contro la Sampdoli in casa, in questo momento, in questo periodo della stagione sto vedendo tutte e due le squadre, Juventus e Napoli, che non stanno proprio brillando fisicamente e psicologicamente, ma la Juventus la posso anche capire, anche se la critico ed è giusto criticarla, perché ha del potenziale ed è giusto criticarla, però la Juventus non ha snobbato nessuna Coppa ed è in corsa per tutti, fino a mercoledì, poi usciremo da Champions League, ma non perché abbiamo voluto l'eliminazione, perché la Madrid è nettamente più forte di noi, tutto lì. E poi siamo arrivati in finale Coppa Italia, siamo primi a più 4 sul Napoli, quindi abbiamo sempre rispettato tutti gli impegni, il Napoli invece ha mandato a fanculo tre competizioni, Champions League, Coppa Italia ed Europa League, per concentrarsi sullo scudetto, ed è a meno 4, fino a un minuto dalla fine era a meno 6, quindi fino a tre minuti era a meno 7, tanto per dirvi, oggi hanno anche sbagliato un rigore, quelli del Napoli, per carità, però in altre circostanze, con altre squadre, con un rigore sbagliato, sono le solite giornate nelle quali ti va tutto male, con un'altra squadra di fronte non l'avrebbe portata a casa, a mio avviso. Poi ognuno può pensarla come cazzo vuole, però ripeto, come gli interisti dicevo prima, lo dico ai napoletani, continuate a godere della nostra eventuale eliminazione mercoledì, e godrete definitivamente mercoledì, e poi vediamo a maggio chi godrà, perché alla fine c'è una tifoseria che non ha vinto un cazzo, non vince uno scudetto da 30 anni, mi viene a dire voi non vincente la Champions da 21 anni, 22 quanto è, mi viene un po' da ridere, ecco tutto lì. Io ci speravo nel pareggio del Chievo, nella vittoria del Chievo a un certo punto, non è arrivata, non è arrivata perché il Chievo-Verona effettivamente ha una squadra oblobriosa, come alcune, c'è ad esempio il Benevento ieri, ha fatto una signora partita contro i noi, la Spal, la Spal si è chiusa, non è che mi sia piaciuta la Spal, io ho apprezzato, apprezzo le squadre che magari ci prendono dei punti, ma che vengono a giocarsela da noi, non nel senso che si sbilanciano, perché i napoletani si incazzano quando le squadre si chiudono dietro, ma no, non intendo sbilanciarsi, intendo quando hai la possibilità di fare un contropiede, che tu lo faccia bene, ecco tutto lì, e contro i noi ieri il Benevento ogni volta che attaccava era un pericolo, quindi contro i Napoli invece ne ha presi 6 all'andata e 2 al ritorno, quindi 8 in totale, vabbè, detto questo, siamo più 4, restiamo più 4, adesso fino allo scontro diretto ci saranno comunque 2-3 partite che sono toste, nel senso che se abbiamo l'atteggiamento di ieri è come quello contro la Spal, e siamo un po' sulle gambe e quant'altro, saranno tutte toste, soprattutto anche quella di Crotone che sarà sulla falsa riga di quelle di Ferrara e di Benevento, quindi stiamo attenti che non è nulla scritto, anche qualora avesse perso o pareggiato oggi il Napoli, certo sarebbe stato comunque un buon risultato per noi, potrei gestirti meglio la situazione da qua alla fine, però comunque il Napoli andrà a Milano contro il Milan in casa del Milan, quindi comunque anche loro avranno le loro difficoltà. Detto questo ragazzi, io vi auguro buona giornata a tutti, fino alla fine Forza Juventus e comunque ti fateci contro, perché nel caso in cui dovessimo uscire dalla Champions League, poi vediamo quanti cazzi prenderete da qua a fine stagione, soprattutto quello più grande il 20 maggio. Ciao a tutti e fino alla fine Forza Juventus. Detto questo non dico che vinceremo per forza lo scudetto, di sicuro lo scudetto, perché ho anche un filo di scaramanzia, però godere di una squadra che vince a 6 anni e tu non vinci un po' da qualche annetto, 30 lo scudetto, insomma, poi gli sfottò le provocazioni, te le cerchi. Comunque complimenti al pop napoletano e al tifo napoletano, che a 5 minuti alla fine stavano insultando tutti, De Laurenti scompreso e poi finita la partita tutti che cantavano, esultavano, tutti bravi e belli, no? Perché loro sono diversi dagli altri, sì, ma in senso negativo probabilmente, no? Ciao a tutti e Forza Juventus.